figlotti allora iniziamo bene iniziamo bene già avrei proprio cardina che mi ha buttata a fa' perché è strunciata carta carta devo proprio a frida è tutto il punto che costuma a me non ho ridi in banca ne manca mezzo perché sono che debbino come immagino preoccupare la vita non fai eh cioè io non ce la faccio più ma mostra ma scena la dina vado di favore come sfizio giovanna a me c'aveva un occhio grosso ma vogliamo vivete muovere ciao alla ticlotti noi come sempre siamo qui alla trattoria del mare come vi ho detto ci abbiamo mangiato un po di tar bellissime buschette calde ma io non mi sono molto ci sono io non gli hai scisa lo hai carbonato tu hai carbonato ok tu hai no sardo tu hai come il sabore ok grazie ragazzi non decidiamo che ci dobbiamo mettere qui secondo voi qualche primo bello 3-0 c'è il video ti devo far vedere una cosa hai detto ma posso fare un giro fai un caldo fai un caldo no mamma mia 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 come身 come me come nel nikim an il per Grazie a tutti.